Allora, siamo qui, la seconda partita Romule a Samagor del secondo triangolare. La Romule ha appena perso la partita a un troffio vicino per 2 a 1. Subito ci prova la Romule, è buona la palla di conquistata dal Samagor. Dopo, subito in conclusione con il Mancino, grande parata da parte del portiere del Samagor. Buona uscita adesso da Romule, la palla in mezzo, ed è il tapino dell'1 a 0 per la Romule. In cui sta bene il pallone da Samagor, forse subendo anche un fallo. Poi, bella la palla messa in mezzo, grandissima parata. Proverà la conclusione, probabilmente, il gioco della Romule ha. Include col Mancino, sarà calcio d'angolo. Bella palla riconquistata dalla Samagor, che se ne va a destra. Ancora una volta, buona lettura difensiva. A parte dei ragazzi della scuola calcio di San Giovanni. Calcio d'angolo, battuto subito. Grandissimo tocco al volo, è 1 a 1. Si può ripartire. Romule, la riconquistata subito un bel pallone. Conclude col destino. Brasoterra, grande, poi la riconquistata. Stop, conclusione, ancora una grande parata. Ancora il pallone verso il portiere. Poi palla, gettata in profondità, grande sombrero. Conclusione col destro. Grande parata, a parte il portiere da Samagor. Sarà calcio d'angolo per la Romulea. Palla, solta, rimorchio. Conclude col destro. Aspetta, falli mettere bene. Sarà calcio d'angolo per la Romulea. Ha giocato basso, attraversa tutta l'area di rigore. Riconquista il pallone da Romulea, in area di rigore. Conclude col destro. Palla che esce di poco. Ci prova col destro. Marcello, vieni, passista. Sulla traversa. Attenzione, palla persa dentro l'area di rigore. Grande copertura difensiva. Allora, sarà calcio d'angolo per la Samagor. Allora, confusione a centro campo. La Samagor riesce a tenere il pallone. Bella imbucata di prima. E poi col mancino provano a concludere. Sarà calcio d'angolo per la Samagor. Adesso solo contro il portiere. L'attaccante la Samagor se la tiene sul destro. E conclude. E la palla è uscita.